Grazie, grazie, grazie. Allora, il 21 ottobre sembra che sia la giornata in Natale dell'UPS, perché il 21 ottobre avremo un pomeriggio in planetario con Laura Saba, che è una scrittrice di fiabe per bambini e planetarista, viene dalla Fondazione delle Scienze della Tecnica di Firenze, ed collabora con una nostra amica che è un'artista, ha un suo blog e ha un suo progetto che si chiama Design of the Universe, si chiama Beth Vermeer, che è Elisabeth Vermeer, che attualmente ha una mostra attiva in Palazzo Spinola. Saranno tutti racconti stellari per bambini, quindi gli adulti qua da Denei che non devono sentire gli amori collaterali, e i bambini tutti su da noi al planetario perché sarà una bella festa, diciamo che in più il 21 è la serata internazionale di osservazione della Luna, indetta dalla NASA, noi siamo iscritti e quindi quella sera lì ufficialmente siamo nell'albo NASA e parteciperemo assieme ad altri osservatori da tutto il mondo a questa serata che è dedicata ogni anno all'osservazione della Luna, quindi planetario e osservatorio aperti alla sera, aperti al pomeriggio e Università Popolare anche, quindi 21 ottobre alla grande. Poi la prima settimana di novembre inizia il corso, inizia il corso di astronomia di base e avremo un incontro con una dottoranda che è dell'Università di Genova, è di Pegli per di più, si chiama Ilaria Risso e ha seguito un progetto che si chiama Euclid, che è il nuovo satellite, il nuovo telescopio che è stato mandato in orbita a luglio e ha partecipato proprio andata in Florida a partecipare alla partenza di questo fantastico telescopio che ha seguito altri telescopi che sono già in orbita come quelli che abbiamo già in orbita Hubble e altri. Questo qua sarà un progetto per la scoperta della materia oscura che fa tanto parlare e diciamo che il suo scopo è proprio quello, la materia oscura che come ci dice il buon planezio è praticamente è quasi il 90% della materia che tiene insieme l'universo e che noi non siamo ancora riusciti a capire neanche come è fatta. Quindi verrà, ci mostrerà in anteprima, siccome lei partecipa a questo progetto con l'Università di Genova, ci partirà in anteprima quasi nazionale queste foto che ha scattato questo nuovo telescopio che è sui nord. Quindi diciamo come apertura del corso. A breve organizzeremo una mostra di astrofotografia con l'associazione Sestante di Sessi Levante che sono fotografie un po' da tutta Italia di astrofotografia, parteciperà Paolo Calcidese che è un nostro amico dell'osservatorio astronomico della Valle d'Aosta ed è un cosmologo con la passione dell'astrofotografia. Poi, non vi lascio, il primo dicembre a Villa Bombrini abbiamo organizzato un incontro con una delle, secondo me, l'essere supremo, la signora delle comete. Si chiama Amalia Ercoli Finzi è una signora di 86 anni ed è stata la prima, la prima astro, la prima, scusate non è astronoma, è un ingegnere aerospaziale ed è stata la prima a laurearsi in ingegneria aeronautica. Nel 1961 ha partecipato ed ha progettato la trivella che ha preso campioni dalla cometa, la famosa missione Rosetta nel 2014 e collabora con NASA, ESA e ASI, ancora adesso, sarà qui con sua figlia che è un ingegnere nucleare e parlerà alle nostre scuole. Abbiamo già organizzato per ora una sessione, speriamo di più perché abbiamo veramente tante richieste. Abbiamo il Fermi che parteciperà, il liceo Fermi, il liceo Gobetti e la scuola Media Volta. Poi vediamo se riusciremo ancora perché è veramente un'occasione più unica che rara, anche perché lei non parlerà di astronomia, non parlerà di ingegneria aerospaziale, ma vorrà motivare i ragazzi, vorrà motivare soprattutto le ragazze a farsi avanti perché lei come sua figlia sono state tenaci, hanno avuto diciamo onori e gloria soprattutto per la loro tenacia e in quei tempi diciamo era veramente un po' come essere in Iran qua in Italia per una donna e ce l'hanno fatta. L'incontro si intitola appunto Sei un universo perché chiunque di noi ha un universo dentro e deve soltanto poterlo esprimere. A breve partiranno i PCTO che l'anno scorso abbiamo fatto con il liceo Lanfranconi e adesso quest'anno avremo richiesto da altri due licei ma non ce la facciamo sinceramente perché vogliamo fare le cose ben fatte e il PCTO dell'Anfranconi l'anno scorso è stato diciamo tutto incentrato sulla gravità, quest'anno vogliamo essere un pochettino più pratici, i ragazzi prepareranno nel corso dell'anno una sessione, una lezione, una lezione di astronomia e condurranno una serata all'osservatorio quindi avranno la possibilità di giocare con planetario, strumenti e noi staremo dietro, insegneremo i rudimenti quindi questa classe parteciperà con noi e alla fine dell'anno vedremo i risultati. L'anno scorso sono stati buoni e quest'anno sempre stranamente il 21 ottobre la classe dell'Anfranconi completerà quello che non è riuscito a completare l'anno scorso a giugno cioè porteremo la classe a Ego Virgo che è un osservatorio che è a Cascina vicino a Pisa che diciamo è un osservatorio per le onde gravitazionali quindi porteremo la scuola ci saranno Michele, Paolo e Giorgio che accompagneranno la classe e poi la troveranno un professore che collabora anche con il dottor Fiodor Sorrentino che è un dirigente di di ESA che è venuto l'anno scorso a fare lezione a questi ragazzi, loro a quelli del Fermi perché abbiamo un progetto oltre al PCTO abbiamo anche un progetto che si chiamava Astro Fermi e hanno portato diciamo tanti personaggi dell'ESA, sono venuti a parlare con le scuole, Villa Bombrini è stata diciamo una vera cittadella della scienza per un po' e speriamo di continuare, vabbè non vado avanti perché ne avremo ancora questo fino a dicembre poi abbiamo già tantissime richieste da scuole elementari da Milano, da tutta la Liguria oramai e non sappiamo neanche più come gestire. E presso l'osservatorio si fa anche qualche attività di ricerca specialmente sul sole e sull'archeostronomia oltre che ovviamente foto digitali che magari non so se Lorenzo e Marco vogliono venire a illustrare qualche foto. Quando frequentavo io il Fermi no queste cose, mannaggia, comunque devo dire complimenti perché queste attività sono affascinanti e sono rimasta allibita da questa descrizione, oltre al romanticismo che c'è dietro tutto questo, perché non dimentichiamoci, sì c'è tutto il lato scientifico ma le stelle sono anche romantiche, diciamolo, non perdiamo questo lato romantico. Non fate i timidi ragazzi perché sennò vi vengo a prendere, vi vengo a prendere io e se lo faccio è peggio, quindi alzatevi e venite qua, coraggio, bravi.